6 fucili, 2 pistole e 48 cartucce di vario calibro è tutto il materiale ritirato su disposizione del questore di Padova al 64enne di Lozzo a Testino che venerdì scorso aveva ucciso un cane sparandogli 5 fucilate. Il provvedimento cautelare è stato notificato ieri dagli agenti della divisione della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura che si sono presentati all'abitazione dell'uomo. Ritirata anche la licenza di porto di fucile a uso di caccia e la denuncia di detenzione delle armi. Un provvedimento deciso per evitare altri abusi nell'utilizzo delle armi da parte del 64enne agricoltore che aveva sparato a Mocchi, esemplare di pastore australiano, mentre stava passeggiando lungo l'argine del canale Bisatto a Lozzo a Testino. La vicenda era stata denunciata dall'associazione 100% Animalisti che aveva ricevuto il video di due testimoni che avevano udito gli spari e poi ritrovato la bestiola agonizzante. Il cane era morto poco dopo come conseguenza dei 5 proiettili sparati dal 64enne. Intanto è sempre da venerdì, giorno in cui è stato ucciso Mocchi, è scomparsa un'altra cagnolina che vive nella casa adiacente a quella dove viveva il pastore astraliano. I due cani erano soliti giocare insieme.